Condanna a 5 anni di reclusione al pagamento di 1.500 euro di multa per un 37enne di Sondrio processato oggi in tribunale per una serie di furti commessi nel 2017 in città. Nel mirino del Valtellinese due bar, la White Lady e il K2, dove aveva rubato nel primo 90 euro e nel secondo 200 euro e un quantitativo non precisato di sigarette. Nei colpi a lui contestati anche il centro estetico Vanilla con un bottino di 380 euro, un appartamento dove il 37enne si era impossessato di alcune decine di euro un cellulare, una bici rubata da una rastrelliera e una decina di sigarette sottratte ad una paziente ricoverata all'ospedale di Sondrio. Nei confronti del Manolesta invece il giudice ha deciso di non doversi procedere per mancata querela rispetto ad un furto in un albergo della Valmalenco e l'assoluzione dall'accusa di rapina ad un'anziana perché il fatto non sussiste.